Il Ponte Unione Europea a Torino collega Corso Matteotti e Via Cavalli, nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Susa, proprio davanti alla sede di città metropolitana di Torino. Quale luogo più adatto per celebrare martedì 9 maggio la festa dell'Europa? Con il sottofondo dell'inno alla gioia, le risate e le voci di bambine e bambini, di adolescenti e delle loro insegnanti. Bandierine dell'Europa al vento per sottolineare l'appartenenza ad una unione di pace e di sviluppo. Viviamo un tempo difficile, con la guerra alle porte della nostra Europa, hanno ricordato gli amministratori delle circoscrizioni 1 e 3 impegnati a promuovere il messaggio europeo. La città metropolitana ha organizzato con il suo centro Europe Direct Torino una bella mattina di festa, nello spirito dell'unità e della fratellanza. Viva l'Europa!